Siterà il prossimo 9-10 aprile al Valverde il Memorial Giuseppe Finocchiaro, organizzato dal Comune, collaborazione con la SD Atletica Valverde, il Comitato Provinciale Fidal di Catania e gli enti di promozione sportiva Libertas e ACSI. La manifestazione partirà da Piazza del Santuario, ricavato delle iscrizioni, sarà devoluto alla misericordia per l'acquisto di una nuova ambulanza. È un modo per avvicinare i ragazzi allo sport, spiega il sindaco Saro Dagata, e allo stesso tempo aiutare la misericordia ricordando un amico che faceva parte proprio di questa realtà. Sabato 9 alle 16 ci sarà la consegna dei disegni del concorso rivolto agli alluni delle scuole locali. Il 10 raduno corriamo Valverde alle 8.30 con partenza alle 9.30. La serata sarà allietata da artisti locale e si chiuderà con una mostra.